Parliamo con Alessio Tacchinardi, dopo l'amica che voleva il Castiglione, vinta per 1-0, una buona prova, intensa, un ottimo allenamento direi. Sì, mi aspettavo una bella risposta perché già contro la selezione disoccupati abbiamo alzato l'intensità, siamo però come ho detto a mercoledì, un cantiere aperto che si sta costruendo ma non ci vuole il tempo, ci vuole la pazienza. Però i risultati hanno sicuramente entusiasmo, mercoledì ho visto i ragazzi un po' dispiaciuti, oggi le ho detto continuate a dare l'anima come state facendo, nessuno potrà mai dire niente. La squadra ha fatto una grande partita con delle difficoltà perché abbiamo poca gente là davanti, adesso stiamo valutando delle cose, però questi ragazzi hanno dato l'anima a tutti, quindi non posso far altro che ringraziarli. Ho avuto la sensazione che i tuoi ragazzi cercassero di più il possesso palla che la verticalizzazione. Sì, a me piace che giochino a calcio, che si muovino, che diano la sensazione di avere personalità. Verzoli secondo me ha fatto benissimo, si è dato da fare, un giocatore che sono convinto che darà tanto perché lo sto lavorando molto nella testa, ha forza, fiato, gamba e può fare un gran campionato. Ha attaccato bene gli spazi, insomma però dobbiamo lavorare tanto davanti anche perché insomma dobbiamo fare delle valutazioni. Io le 10 le ho già in testa e la società le sa, ma quelli che stanno facendo io sono soddisfattissimo dal primo giorno. Mi hanno dato grande disponibilità, grande voglio, oggi ho visto delle belle giocate, dei giocatori che hanno fatto una grandissima partita, giovani su tutti, quindi voglio fare i complimenti perché le prime uscite le avevo punzecchiato, ma ha dimostrato davvero di essere un grande giocatore. Che ha unito qualità a quantità anche giovane. Sì, se diventa cattivo, diventa forte nella testa, è proprio diventare un grande giocatore, ma tutti, tutti veramente hanno fatto una grande partita, da Davini a Scetti che magari ha avuto le prime uscite, che ha zoppicato un po' sulla condizione fisica, ma non ha dubbio il capitano, un giocatore importante, Ferri, insomma tutti, Zanola, Medeo, ha fatto una grande partita, che è entrato, quindi con questo spirito, con questo spirito bisogna andare avanti, saranno tutte dure e sofferte da battaglia, ma con dei ritocchi perché ci vogliono degli acquisti che facciano la differenza, siamo una squadra competitiva. Molto bene sul piano del carattere e dell'intensità, dicevamo, tecnicamente cosa ti è piaciuto dei tuoi ragazzi? Mi è piaciuto bene il processo di palla, mi è piaciuto bene quando potevamo avere la possibilità di attaccare gli spazi che li abbiamo attaccati, mi è piaciuta la qualità nel possesso, nelle verticalizzazioni, è vero anche che giocavamo una punta, ho messo due mezze punte perché oggi non ho altro, ho poco, e mi è piaciuta la solidità, la personalità, la lenta penzenza di tanti giocatori, e quindi è sicuramente un passo avanti, ma c'è da lavorare tanto, ma sicuramente i risultati fanno piacere, questa è una squadra tosta, solidissima, forte fisicamente, ci dà dei centimetri, però col gioco, con la rapidità, con le idee veloci abbiamo fatto un buon calcio, secondo me. L'ultimissima, adesso c'è la michevoria importante con l'Atalanta mercoledì, che cosa rappresenta questa partita nel percorso della preparazione della pergolettese? Ma, ripeto, questa per me era una partita importante, era questa col Castiglione e con l'Atalanta, farò giocare un tempo a testa per fare una soddisfazione ai ragazzi e soprattutto per vedere questi ragazzi, oggi c'era Esposito che è un giocatore che mi può piacere, mi può interessare in mezzo al campo, perché è un giocatore che l'anno scorso ha fatto tanto e bene a Pontedera, però li devo valutare, non prendo più scatola chiusa, non faccio firmare più nessuno i contratti, perché poi bisogna pagarli, quindi quelli che mi fido ne tengo della rosa, perché dopo sono io che alleno, sono io che devo prendere le responsabilità, quindi Esposito sta facendo bene, è un giocatore interessante, questa squadra però bisogna, la società lo sa, di altri giocatori per far salire tanto questo livello di questa squadra che però sta crescendo, si sta formando.